GF Party. Fuori Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, ecco chi sono i due nuovi conduttori ora ci sono solo. 4 giorni al primo episodio della nuova edizione di Big Brother. Il reality show condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Secondo le direttive, la GF segnerà un ritorno alle origini. In realtà le persone comuni entreranno in casa. Così come alcuni VIP. Molte notizie. Da Cesara Buonamici come unico commentatore. A Rebecca Staffelli all'angolo sociale. L'oratore radiofonderà sostituirà Giulia Salemi. Cambiando anche la guardia al GF Party. Outside Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. O l'interno di due nuovi conduttori. Di cui nelle ultime ore la pagina ufficiale del Grande Fratello aveva rovinato alcuni indizi. Secondo quanto riportato da blog e tv u accento grave. I due nuovi volti del programma saranno Enni Mazzola e Andrea Dianetti. Enni è un relatore radiofonico di Radio 105. L Andrea ha invece raggiunto la popolarità grazie ad Amici. Il talent show di Maria De Filippi. Lo abbiamo recentemente visto tra i concorrenti di tale e che lo spettacolo. Dove ha ottenuto diversi consensi dal pubblico e dalla critica.